Bella ragazzi, qui è Fredzindy che parla e quest'oggi siamo su March, un gioco sempre indie, fatto da Felix Park. E' un gioco che mi è stato consigliato da alcuni amici, è un gioco molto minimale, da quel che ho visto dei pochi screenshot che ci sono del gioco, dovrebbe essere riguardo a una storia d'amore o qualcosa del genere. Iniziamo. Vediamo un po' come si presenta questo March. Allora. E io ho detto subito che è una storia d'amore e questo mi dice che non è una storia d'amore. Va bene. Allora, mi avvicino a questa figura, che sarà la mia compagna, mia moglie o quello che è. Ah, ci si può muovere così. Pienire la mano. Ah, ho capito. Bisogna tenere premuto il tasto sinistro. Oh, perché non, perché non non me la fa? Poi. Lo meglio che sono impedito. Ah, sì, ok, perfetto. Bisogna tenere alla e le così mi dovrebbe... Aia! Cos'è? Listen around? Ah, ho capito. Bisogna seguire. Vediamo. Ah, eccola qua. Ciao. Ciao. Teniamo premuto. Hm. Dove andiamo? Dritti, probabilmente. C'è qualcosa? Mi stupendo. Mi segue sempre. Non ero così realmente. Tu mi stai sempre seguendo. Non l'ho mai colpito. Beh, sarà meglio. Vorrei ben vedere. Eravamo insieme e basta. Io ho sempre paura che questa mi scompaglia da un momento all'altro. Eravamo contento di quello che avevamo. Giustamente bisogna sempre essere contenti con quello che siamo. Non mi dai fuori. Anche se mi dimenticavo che era con me. Ah, ti vuoi più velocemente e salti con la spacebar. Va bene. Però, oddio. Non dimenticavo che devo saltare su tutte queste cose. No, no. C. Leni. Ah, aspetta, eh. Ehi, infatti, sospettavo. Ti devo lasciare qui, però. Sì, mi sa che ti devo lasciare qui. Perché mi salvi come... No, devo fare tutti questi salti qua. Non ce la farò mai. Eh, già, già sono bloccato. No, no. Sono bloccato? Che è sta cosa? Oh. Sono bloccato. Ah, no. Ah, no. Bene. Mi sono sbloccato. Meglio così. Saltiamo, 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 saltiamo. E qua ci arrivo? Sì. Mi chiedo se lei provava la stessa cosa. Salto. Salto. Bellissimo. Tanto, sottofondo, bellissimo. Mi dirò forte, classico. Ah, che rischio. No, mi ripeto, è tutta questa cosa qua. La mente di me. Non mi andrebbe bene. Ci stava bene. Ah, le vostre cose. E' bellissimo. No. No. Ci andava bene la distanza. Ah, devo... Andiamoci a prenderla. No. Ma dov'è? Ah, no. Mi sto allontanando. Aspetta, eh. Oh, mio, io qua ci vorrà magari anche un po'. In realtà devo stare in sittica, perché se no non la sento, eh. Allora. Dovrebbe essere la strada giusta questa. Sì, sì. Ecco. La sento bene. Sì, sì. A bloccarla. No. Ma che non ci riesco? Sì. Sì, è un po' di problema. Adesso si può fare benissimo. Ah, ecco qua. Benissimo. Oh. Ciao. Saliamo. Mi segui? Sì. Cominciamo a salire, con calma. Ah, se ne stava... Mi stava per lasciare, seguendo le sue... La sua vita e le sue ambizioni. E a me... Ah, a me andava bene. Giustamente. Quando vuoi tanto bere una persona, volevo che fosse felice. giustamente. Eravamo felici di stare insieme per... Per il tempo che lo eravamo stati. Io ti poso i bombi. Ahia. No. Ah no. Bene. Andiamo. Andiamo. Stavo per andarsene. Stavo per andarsene. E meritava a continuare. Non volevo... Androiarla, non volevo... E lei lo sapeva. Non mi cominci a farsi più complessa quella questione platform. Ah. Bene. No. Che rischio. Non volevo... Ah, non volevo... Ah, però questo... Dice semplicemente che non voleva... Che non cercasse nessun altro oltre a lui. Volevo essere maturo. Nessun problema. Niente. Non era un dramma, per me. Però, per ora, eravamo... Eravamo... Avevamo l'un l'altro. Ciao. Seguo qui. Seguimi. Mi stai sempre seguendo. Non ci sono jumpscare in sto gioco. No. Dovrebbe essere un gioco... D'amore, infatti. Due mesi. Cinque, quattro, tre, due giorni. Ore, minuti. Vabbè, andiamo verso l'unità. Andiamo verso l'unità. Non ho bisogno di lei. Signatura qui. No, ragazzi, anche per istanze. E' una storia riguardo a una relazione all'unità di istanze. Questo qui si sta chiedendo se può più fare un'unità. Sono un stappo con le numeriche di me. Mi sta rallentando. Non ha bisogno di me. Oh. Oh. Ma non c'è a via. Grazie. Mi è stato così. Non... Alla fine, eravamo insieme. Sapevo di essere innamorato. Non avevo dubbi. Non volevo farla andare... Non volevo andare via. Ma questo non è quello che è successo. Vediamo la storia. Finale a fine. Ah, questo non è il finale giusto. Senti, mi sa che devo lasciarti qua. Vabbè, facciamo ancora una prova per vedere se effettivamente... Mi stai seguendo? Sì. No, non è uguale a prima. Mi sa che ti devo lasciare. Sì. 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 Ah, non capisco. Addio. Vabbè, intanto... Capisco che era una relazione a lunga distanza, ma alla fine. Non aveva il vento. È la scelta giusta. Comunque, il portone sta scendendo velocemente, ma dai, non è neanche questa la scelta giusta. Se per i fesi di prima, non mi spiegherei ricevano andare, se ne sono costati, ma infatti, questa volta riesco a passare. Quindi questa qua diventerà la scelta giusta. O forse no. Salvo da mal di testa. Salvo da noi, ma ancora di più da me stesso. Tempo dopo. Ah, è tornata. Per finire altre cose, per, sì, per altri affari. La vista. Ma eravamo diversi. Io ero diverso. Vai, di quella laggiù. Oppa. Saltiamo. Ah, va, non è così semplice. Bisogna saltare. Parole che lasciano... No, non l'ho letto bene. Vabbè, qua... Ah! Dio, che rischio. Allora. I suoi occhi che mi evitavano. Parlando, parlandoci di nulla, del duro, del duro, del duro, del duro, dei suoi sforzati, e le risate per l'impianto. Eccola lì. Ti auguro felicità, e mi dispiace, insomma, mi dispiace per tutto. Ci vediamo, quindi. Ah, è finito. Beh, molto bello. Soprattutto le musiche, molto, molto toccante. Anche la storia. Diciamo che è la storia di una relazione a distanza che è finita non bene, che è finita male. Ma il mio pensiero su queste cose è che comunque le relazioni a distanza non funzionano in ogni caso. Bene. Penso che il video possa terminare qui. Ah, tra l'altro io l'ho giocato ovviamente con le mie cuffie, perché io gioco sempre a parte con le cuffie, però anche qua c'è scritto che le cuffie sono raccomandate per un'esperienza migliore. Sono pienamente d'accordo perché le musiche sono veramente ben fatte, tutte al piano, registrate probabilmente dallo stesso Felix Park. Bisogna ringraziarlo, è un gioco fatto bene, semplice, quasi minimale, molto bello però. Lasciate un like se il video vi è piaciuto, commentate se voi volete vedere altri giochi simili, iscrivetevi al canale, e niente, bella gente. Oh, mori male proprio. Molto bene. Prendiamo, ha ucciso tutti. E che cazzo? No, no, va bene. No, no, va bene.